Interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. Nel corso dell'ultima riunione tecnica del contratto istituzionale di sviluppo, svoltasi in videoconferenza nei giorni scorsi per fare il punto della situazione sull'andamento degli investimenti previsti nell'ambito del CIS per Taranto, su proposta del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, senatore Mario Turco, in piena sintonia con la Regione Puglia, è stato individuato un nuovo intervento da realizzare nel capoluogo ionico che prevede l'acquisizione di un edificio di proprietà della Banca d'Italia da riqualificare e destinare ad attività accademica e di didattica laboratoriale per l'avvio del corso di laurea in medicina. L'immobile sarà acquistato dall'ASL di Taranto con fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia attraverso una rimodulazione degli interventi previsti nel CIS. A questo straordinario risultato per tutta la comunità ionica si arriva dopo un percorso avviato circa due anni fa, partito dal basso, grazie all'importante gioco di squadra messo in campo da tutti i soggetti istituzionali, dal Governo alla Regione Puglia, dal Comune di Taranto alla provincia, dall'ASL di Taranto, sino infine, ma non certo da ultimo, all'Uniba. Per la realizzazione di questo intervento è stimato un costo di circa 5 milioni di euro per l'acquisizione di 8 milioni di euro per la ristrutturazione, uno sforzo economico e finanziario importante che sarà possibile realizzare grazie alla rimodulazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di tre interventi già previsti nella città vecchia di Taranto, la cui copertura finanziaria è garantita a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020. E conclude così Borracino, già partito l'iter amministrativo per l'ammissione a finanziamento di questo nuovo intervento, con l'impegno di tutte le amministrazioni coinvolte di concluderlo in tempi rapidi, fermo restando che, ove le risorse attualmente stanziate non dovessero risultare sufficienti, si provvederà con l'individuazione di nuove risorse sempre allocate nell'ambito del CIS Taranto.